Ecco gli sfogli a velo! Sottile questa sfoglia! Così si sente tutto il gusto del ripieno. Lo so bene io. Sono Giovanni Rana. Solo lo stracchino più cremoso e la rucola più fresca. Garantito Giovanni Rana. Che poi sarebbe lui! Otto uova per ogni chilo di farina! Proprio come a casa mia! Oh, io sono Giovanni Rana! Chi lavora da Giovanni Rana ha la stessa passione del signor Giovanni? Nuovi sfogli a velo, stracchino e rucola Giovanni Rana. Orgogliosi di farli bene. Alzi la mano chi è Giovanni Rana. Grazie per la visione!